Vai Mata! Calcio di punizione! Calcio di punizione a favore della Vistus Castelfrentano mancano pochi secondi alla fine della gara stiamo conducendo 2 a 1 qui al nuovo di Via Olimpia contro il San Salvo scusate l'emozione ma una partita molto vibrante ecco calcio di punizione parate del portiere torrate del rato!